Allora, sono qui per raccontare la prova dell'ultima gara di Magione che è avvenuta domenica scorsa presso appunto l'autodromo qui Umbro è stata una prova molto avvincente, è una macchina andata molto bene macchina noleggiata da un famoso preparatore Tim Fagioli è una macchina molto molto competitiva, uno Sella PA21-2000, motore Honda diciamo che siamo andati molto molto bene, specialmente anche con il tempo in condizioni un po' incerte all'inizio pioggia, asciutto, non si capiva bene il meteo eravamo pronti appunto a montare le gomme da bagnato, non sapevamo precisamente come sarebbe andata la gara nelle prime prove della mattina avevamo il miglior tempo seguiti appunto da un'Osella, sempre un'altra vettura del produttore torinese però di cilindrata 3.000, era staccata di circa 8 secondi e poi seguiti dalle altre macchine la prima manche di gara, il motore del 3.000 sicuramente più stazionale ci ha messo un pochino in difficoltà e siamo arrivati dietro poi abbiamo fatto una seconda manche di rimonta seguiti anche dai problemi dell'altra vettura e ci siamo avvicinati di un secondo alla vittoria assoluta che appunto è sfuggita solamente di un decimo e lì diciamo che un po' di sfortuna è accompagnata da qualche magari imprecisione di guida ci ha condizionato la vittoria però la macchina devo ringraziare innanzitutto i miei genitori tutta la rampina auto che mi dà la possibilità di correre di fare quello che mi piace devo ringraziare ovviamente il team per avermi dato una macchina a posto di tutto molto competitiva nei prossimi appuntamenti sicuramente faremo tutte le gare in pista che ci saranno di questa serie cercando appunto di sfruttare magari la macchina nel migliore dei modi e questo giro di cercare la vittoria e tutte le salite che ci potremmo permettere caso a lavoro e tempo permettendo le faremo tutte questo è quanto è successo domenica volevo ringraziare tutti sia chi mi ha fatto da casa gli auguri sia chi è venuto a vederci e questo è quanto vi ringrazio e grazie del tempo permesso che mi avete dato